Puntata da non perdere, la prossima di Cani, Gatti e Compagnia, perché in studio siamo davvero tanti e abbiamo esperienze da raccontare. Ovviamente sono loro i miei ospiti. Francesca Larghi, dell'allevamento Francesca White King, che è qui in studio con i suoi schnauzzer Nanni Bianchi. Francesca, ci racconterai della tua esperienza a Santiago de Compostela insieme al tuo Darwin. Sì, racconterò della mia fantastica esperienza del cammino francese, del cammino portoghese, con Darwin, schnauzzer Narno Bianco instancabile, che ha percorso 200 e altri 160 km la seconda volta senza avere nessun problema, quindi riveleremo i segreti di come affrontare il cammino senza rischi. Benissimo, seconda parte della puntata dedicata a Cinzia Vornaghi e a Gianni Romanazzi, che sono vicepresidente e presidente del circolo ipico Parco dello Stirone. Un circolo meraviglioso dove il cavallo, Gianni, è al centro di tutto. Il cavallo è la natura. Certo, noi siamo nati per questo, per far divulgare quello che è il cavallo in natura e avvicinare la gente a questo magnifico animale, per entrare e immedesimarsi nella natura. Noi mettiamo a cavallo gente che non sa andare, ma anche gente che sa andare a cavallo e speriamo di portare avanti questo messaggio per tanto e quindi cercare il più possibile di sensibilizzare la gente a rispettare la natura che sarebbe ora. Benissimo, quindi questi saranno gli argomenti della puntata di Cani, Gatti e Compagnia. Avremo tanto di cui parlare, ma soprattutto immagini bellissime da vedere e commentare insieme.